Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e oggi siamo in compagnia con le mie amiche Alessia e Michela sono venuta a trovarmi qua a Lione perché festeggiamo l'addio al nubilato di Alessia perché si sposa a settembre e quindi sono venute qua passiamo due giorni insieme quindi ne profittiamo facciamo un vlog di questi due giorni così vedrete tutto quello che faremo insieme e niente quindi ora siamo lungo il fiume stiamo andando verso come si chiama un bar che c'è qua lungo la passeggiata andiamo a farci un aperitivo ci beviamo qualche cosa e incominciamo questa serata pronte? potete parlare? non è un vlog? parlano vi assicuro hanno la voce non sono siamo pronte siamo pronte siamo pronte siamo al tavolo siamo ordinato non vedo niente dobbiamo stare dietro non si stiamo inquadrando no vabbè nel caso siamo sedute ci facciamo aperitivo ciao ciao diranno ciao ogni volta che arriva in quadro perché sarebbe un video così monotono ciao ciao ora vediamo diciamo ciao aspettiamo che arrivano i cocktail e facciamo vedere intanto vi faccio vedere dove si è strano passiamo un ciao che ne hai detto ciao? ok siamo al tavolo e niente passiamo su una peniche siamo su una barchetta qua qua e niente aspettiamo che arrivano i cocktail allora è arrivato il aperitivo ciao adesso è l'entranata perché anche io c'è l'ape si vede una vespa non è un'ape è un'ape no è una vespa non è un'ape ma non punge questa a due ok ragazzi cambio di location ci siamo passati a piano di sotto perché c'erano le api ci erano attaccate le vespe le vespe quindi per poter mangiare e poter vivere di quanto sono al piano di sotto soprattutto me quindi ora aperitivo e ciao ciao allora siamo sulla passerella non mi ricordo il nome ragazzi la passerella quella che sembra che si muova cioè sembra si muove un pochettino le volevo far provare alle ragazze qua però sopportabile com'è dai poco ora questo qua che corre senti scraziato vabbè non datemi che non correre eh che fa le foto momento di questo quindi la fitta all'aperitivo e andiamo verso il centro facciamo ancora un giretto senti lei ne faccio un aperitivo è l'otto e mezzo l'abbiamo prenotato da Carmelo non so se lo conoscete se siete mai venuti a Lione lo conoscete ed è il gruppo big mamma vi farò vedere un po' di video carino giusto? si certo vabbè dai da ciao a si e certo piano piano fine serata fin in video parleremo esatto intanto qua che bello wow ok è arrivato il cibo è vero usciti dalla pizzeria ragazzi c'è un po' di coda fuori guardate va aducinate e lunedì sono tutti qua che aspettano per entrare nella signora comunque com'è stata l'esperienza? bene molto bello il locale è molto bello molto buono da mangiare ha detto tutto lei cosa avete mangiato? io ho la pizza margherita io ho dei paccherini con stracciatella stracciatella io uguale pizza stracciatella e ho diventato a giochere passarella numero 2 si torna a casa alle foto scusi fotografa cosa fotografa? cosa? vedere? secondo te cade in acqua no? si si siamo a rischio nel caso faccio il video nel dubbio no niente ci sono dimenticati di filmare stanno tornati a casa abbiamo già portato il rumba a fare il giro e ora ci facciamo che siamo migliori adesso Tintation Island è l'ultimo adesso si sta mettendo il pigiama appena esce Alessa con il pigiama ve lo facciamo vedere e poi chiudiamo questa giornata e ci vediamo domani per la vera giornata a dopo ok ecco la qua con il pigiama e ta ta bride buongiorno buongiorno Cosa volesse dire? Buongiorno a tutti l'indomani mattina. Quindi siamo svegliati, siamo usciti a prendere i sughi d'arancia. Michele, buon fanci. No, pesca. Pesca, pesca alla fine. Pesca e arancia. Pesca e arancia. Mi ha approfittato, giro a Rumba, chiameno fatto che la sua passeggiata. E tra nove minuti arrivano i frassani, quindi bisogna muoverci e tornare tutta casa. E andiamo a svegliare e iniziamo questa giornata. E ci trucchiamo soprattutto perché non va bene così. A dopo. Tranquilla. Ti è svegliata anche lei, ti è tornata a casa. Siamo ancora buona amicizia con Rumba. Non è che bello. Non devi abbaiole quando mi svegliamo, ti capito? Basta. Non ti abbaiole. Visto? Basta parlare. Vero? Te lo lancio, però se stavate ne svegliare, vai. Chiaro? Vabbè, te lo lancio. Ai già. Dai, ci riposiamo ancora un po' e poi si parte. Sì. Dove? Verso l'infinito. Quindi, il plato misto di croissant, abbiamo panna au chocolat, croissant, chausson un po' e torsate au chocolat, mademoiselle. Certo. Io mi avrei questo. Intanto vedi qui che ci cae, infatti, ne lo ti tiene. Ti fai vedere? Cosa? La maglietta? Ah, scusa. Bello, bello, bello. Intanto questa, poi dopo vediamo. Disastro. Allora, chiudi gli occhi quando vieni. Andiamo a morire a noi? Ah, ok. Vieni. Chiudi gli occhi. Pronte? C'è la sposa. Ciao. Quindi siamo pronti, cominciamo questa giornata e si inizia. Andiamo. A dopo. Allora, la prima challenge, vedete queste piccole papere oche? La nostra sposa dovrà invitarle. Allora, dai. Ci mostri. Ci mostri come si, come fa, vai. Inizio quella che ferma. Come fa? Eh sì, eh. Non so il verso. Vai. E come fa? Non lo so. Come? Non ho capito. Un po' più forte. Come fa? Com'è che fa? Senti, senti. Allora. Non c'è la faccia per parlare tutti. Come si chiama? Rosetta. Tenta a non stendere la signora. Voi che bello è l'ago. Marona. Ebbene, volevate fare attività sportiva e mi aveva l'ha fatto. Esatto. La colazione è la buona gente di più stamattina. Si va poi su di là. Vai. Da dove? No, devi andare su qualche modo. Anche giù, eh? Vai giù. Non c'è. Scemo sta mancrici a giù. Sì, volevano buttarsi nell'ago, vedete? Ragazzi, ha preso il comando la ragazza. E lei che ci conduce. Stiamo puntando dei bitoni nella spazzatura. Forza. Forza gambete. Pedala, pedala. Sentire la ciclata. Butto la bicicletta e ora pedali. Come si dice, no? Benvenuti allo zone. Vai. Apre, signora. Ma non è sicura? Apre, apre. È chiuso? Non riesco. Allora, nuova challenge. Sposa, bisogna imitare la giraffa. Come fa la giraffa? Non fa versi la giraffa? Farà un verso una giraffa? Prova a improvvisare. Imito una giraffa. Uguale, dai. Invece bufa l'ho corruto? Allora, pelicani. Sposa, come fa il pelicano? Bene, però, per favore. Mimiti un pelicano. Tutti muti sono questi animali. Faranno diversi. Tira fuori la voce. Come fanno i pelicani? E le ali, quando le aprono e scrollano? Ci può stare. Pelicani, cosa ne pensate? Mi somigliava. Guarda quello l'ho. Vieni un po' più avanti. Pi' avanti. Brava. Allora, lì ci sono dei fenicotteri. Sposa, mi imiti i fenicotteri. Bene, eh? Allora, è un po' lontano. Poi, a farlo zoom, vedete lì? Quella lì? Allora, quella lì è una zebra. Quindi, ora, la sposa ci imiterà la zebra. Ma, ora, è un'imitazione veramente irreale. Sì, ma è veramente che le verso non lo so. Tipo un cavallo. Lo verso. Come? Ho capito. Puoi rifarlo? Un po' strana, eh? Questa zebra. Cosa? Challenge. Andare nell'erba e fare una ruota. Di ginnastica oggi. Sembrava dovessi fare un triplo carpiato. Ho fatto anche stretching prima. Dai, è nuovo. Cos'era? Dai, puoi farla meglio, signorina. Puoi fare meglio. Una ruota. È meglio che so fare. Ok. Allora, un altro esercizio. Aspetta, amica, hai finito. Allora. Adesso devi fare corsi in avanti su una gamba. Devi fare tanti saltini in avanti su una gamba sola. Devi contare fino a dieci. La devo andare. Fino a dieci. Il più lontano possibile, eh? Uno. Due. Tre. Quattro. Lunghi. Cinque. Sei a metà. Sei. Sette. Otto. Sei a metà. Sei a metà. Sei a metà. Cinque. Dai che ce la fai. Ho cinque flessioni. Cosa preferisci? Adominarmi. Almeno stai seduto. Attenta al mio cellulare e al mio zaino. Per colpire via. Cinque, vai. Uno. Fino a su. Cos'è questa cosa? Ti muovo da capo. Uno. Due. Vabbè dai. Tre. Quattro. Vai, l'ultimo. E cinque. Brava, sposa. Brava. Allora, un corvo. Quindi, sposa il corvo. Verso? Come fa? Devi cantare a voce alta, il ritornello di una canzone che vuoi tu, ma a voce alta. Devi urlare. Ho visto lei, si bacia lui, si bacia lei, si bacia lei, si bacia lei. Mon amour, amour, ma ti bacia tu. Brava. Abbiamo finito le sfide, ora ve lo possiamo dire, abbiamo preso un'applicazione dove in pratica c'era una sfida, c'erano varie sfide da fare in giro per Lione, per la sposa. Quindi abbiamo finito. C'è tanto a sposa, si sta mangiando... Distrutta. Ora stiamo facendo pausa merenda, stiamo mangiando il suo plan, che volevo da tanto. E il pà, questo qua, la brioche, quello con le praline e quelle rosa, tipico di qua. E niente, mangiamo qualche cosa, poi torniamo a casa, doccia, ci riposiamo un pochettino e poi andiamo a fare cena. Se riesco vi metto qualche clip e magari adesso qualche video delle cose che abbiamo fatto, che l'abbiamo fatto fare in giro per Lione, così me lo vedete, capito un pochettino. Volei chiudere, bah. Ciao. Ragazzi, si è fatta sera, noi siamo pronte. Abbiamo comandato l'Uber e stiamo andando al ristorante. Outfit. Una cippa, vabbè. Pronte? Ok, ragazzi, siamo arrivati alla Maison. Ciao. In teoria è qua dietro. Boh, vi faccio un video appena entriamo, vi facciamo vedere. Anche per noi è la prima volta, per me è soprattutto la prima volta, quindi non conosciamo. Appena entriamo poi vi facciamo vedere. A dopo. Alla fine siamo dentro, non so se per il meteo o per che cosa, però vabbè, siamo solute dentro. E niente, ora mangiamo, magari quando ci siamo fuori facciamo qualche riprenda. A dopo. Alla fine, ragazzi, i vlog, facciamo tutto come ci sia stata serata, grandi cose, ce n'è ci fa. Però vabbè, abbiamo fatto una serata insieme, no? Stanno divertiti, va bene così. L'ultima sera per noi. Però dovremmo fare una buona serata a ballare. E quando? Tra vent'anni, ragazzi, quando? Quando? Sì, che ormai avremo dei cremini tra vent'anni. Facciamo prima, facciamo. Sì. Dai, buon. Mi sa che tanto questa serata ora la finiamo qua, questo video. E ci vediamo domani, che almeno facciamo il saluto finale. E chiudiamo questo vlog. Buonanotte. Buonanotte, a domani. Buongiorno, buongiorno. Sono in partenza. Ecco, giro a Roma. Finita la vacanza, l'ho passata veloce. Ho fatto un bacanale con le forze. Ho fatto un bacanale con le forze. Ho fatto sei chilometri a piedi. Quattro. È più la mattina. Va a lamentarsi, va a lamentarsi. Dopo giro a piedi solo. A dopo. Eccoci, mi sono dimenticata di fare il video. Scusate. L'abbiamo accompagnato le ragazze a casa. A casa. Il metro. Io a Rumba. Però non vuole camminare. Ora va un po' Maggie. Ma prima c'è stato un momento che non voleva camminare. Si riesco a metter una foto che ho fatto. Però niente, dai, le abbiamo lasciate. Sono partite. State a prendere. E di nuovo vuole camminare. Andiamo. Dai, Rumba. Tornano poi. Oh, veramente. Lava paura di loro quasi. Durato tutto il tempo che sono state qua. E adesso fa così. Assurdo. Comunque, scusate le condizioni. Però vabbè. Niente, dai. Finiamo qua questo video. Così almeno avete visto un pochettino come abbiamo passato insieme a questi giorni. Spero che questo video vi sia piaciuto. Che vi abbia tenuto compagnia. Niente, ricordatevi di iscrivervi al canale. Mettere like al video. E chiaramente poi ci sarà il vlog del giorno del matrimonio di Alessia. Così almeno vedrete tutto. E passeremo la giornata insieme anche lì. Niente, a presto con un nuovo video. Ciao. Ciao.